Qualche curiosità ad Alberto Battistoni, qualche domanda? No, no, fatemi voi le domande. Sì, le sta facendo Mimmo di Passione Milan. Se non ricordo male, Battistoni faceva parte di quella formazione della Fatal Verona del 5-3 di Lazio Milan, del 73. Quindi vorrei chiedere a lui le sensazioni vissute in campo, e questo psicodramma dei calciatori del MIA, dei tifosi con uno scudetto già vinto e perso in quella partita. No, non l'ha capito molto bene. Cosa vuole sapere? Le sensazioni? Lei c'era in quel Verona-Milan 5-3? Sì, sì. Lui vuole sapere le sensazioni di chi ha perso e già vinto. È stata la mia ultima partita a Verona. Ah, addirittura. Poi pensi che Prati aveva ordinato una Porsche, una macchina, una Porsche, le vittorie dello scudetto, quando la Porsche ha dovuto rinunciare ed è venuta a Verona con un'altra macchina che non era quella, io diciamo. per quello di con un'altra macchina che 19 qui ne aveva questo allezato. Grazie.